Te ne vai o no, 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 te ne vai o no. Chiedono le dimissioni del sindaco Angelo Vichi, i cittadini di Monbaroccio, che fin dall'inizio sono stati contrari alla fusione per incorporazione del loro comune in quello di Pesaro. 691 grazie, ha scritto il consigliere di minoranza Emanuele Petrucce, a tutti i monbaroccesi che hanno votato no e hanno salvato l'identità, la memoria e la storia del nostro comune. Entusiasta del risultato ovviamente è anche la presidente del comitato Vogliamo Vivere a Monbaroccio da Monbaroccesi, l'avvocato Michela Marsili. Abbiamo vinto e siamo veramente felici perché abbiamo lasciato che Monbaroccio continuasse a vivere. Questo era il nostro scopo e il nostro comitato ha radunato e raduna solo ed esclusivamente cittadini, senza colorazioni politiche. Quindi noi siamo contenti perché abbiamo visto che la gente ha dignità, ha amore per il suo comune e vuole rimanere in Monbaroccese. Mentre Vichi speriamo che si dimetta perché come ha fatto il sindaco di Tavoleto che da quello che ci risulta questa mattina si è dimesso perché ha evidentemente dignità. Nel prossimo consiglio comunale appunto presenterai tu ufficialmente la richiesta di dimissioni. Sì, noi la chiederemo. A questo punto se il sindaco non si dimette io credo che sia responsabilità anche dei consiglieri comunali perché noi fino adesso diciamo che abbiamo sempre detto che è il sindaco che ci ha fatto questo, che voleva farlo in cooperazione, però è sempre stato appoggiato dalla sua maggioranza. Quindi i consiglieri comunali sono responsabili come il sindaco. Un'altra cosa le dico, nella riunione dell'Unione dei Comuni abbiamo fatto il trasferimento della Polizia Municipale all'Unione. Praticamente nelle prime delibere doveva esserci una stazione con quattro vigili anche a Monbaroccio. Bene, nell'ultimo consiglio, nel piano trianale questa stazione era sparita. Io ho fatto un emendamento, ho proposto di rimetterla. Vabbè, il nostro sindaco e il vice sindaco hanno votato contro, questi votano contro il Monbaroccio, devono andare a casa il prima possibile. Nella notte non appena hanno avuto la certezza dell'esito negativo del referendum, i monbaroccesi hanno festeggiato e brindato in un bar di Villa Grande. È vero che ha pensato di far suonare le campane a festa? Allora, l'altra volta ho fatto lo scherzetto dei musei, stavolta ho pensato alle campane, però dico un po' troppo grossa, sempre gli accucci, gli accucci, pian piano mi mettono in galiero ai servizi sociali, quindi... Stamattina alle 7 che ha telefonato, ha mandato un'amica nostra a mia moglie su Facebook e a quel punto la gioia è stata immensa perché io che poi oltretutto sono un monbaroccesi importato perché arrivo da Bologna, abito qui 12 anni, ho visto che i monbaroccesi hanno molto amore per il suo paese e soprattutto rispettano quei mille anni di storia che c'è a Monbaroccio. È contrario a questa fusione per incorporazione? Sì, sì, è contrario. Quando ha saputo che in realtà aveva vinto il no? Ieri sera, questa mattina? Ieri sera alle 3, è venuto fino a giù alle 3. Quindi è stato sveglio fino a tardi? Sì. E se chi per esprimere il suo parere ha posizionato un forcone nell'orto di casa, ben visibile fra l'altro dalla finestra dell'ufficio del sindaco, c'è anche chi non ha voluto mancare all'appuntamento con l'urna, nonostante la veneranda età di 93 anni. Si tratta di Ardizio Paci, che è stata una guardia comunale di Monbaroccio e che, con bastone in mano, si è recato nel seggio di Villa Grande. O come la signora Rosa Rondina, 94 anni compiuti, che ha voluto esercitare il suo diritto di voto. È stata molto contenta che hanno vinto il no, logicamente, da Monbaroccese, e si tiene a essere Monbaroccese in maniera Monbaroccese. Quindi ha dato, insomma, anche un bel esempio, nonostante l'età si è fatta accompagnata. Forse è un buon esempio anche per tutta l'Italia, che non è andata a votare. E quindi, perché tanto il voto è sempre un diritto, è anche un dovere, penso. Dervi che cosa avete votato? No, certamente no, perché era una cosa insensata e non si doveva fare, assolutamente. I monbaroccesi possono fare tante altre cose. Spero che questi qua non ostacolino tutto quanto si può fare a Monbaroccio. Un'incredibile quantità di cose si possono fare e migliorare. Ci crediamo, il peccato è che forse non ci credono loro. Questo è il guaio di Monbaroccio. Per cui sono anch'io per dire che è meglio che si dimetano. È un gesto di umiltà, tutti sono necessari, ma nessuno è indispensabile, anche a Monbaroccio. Di che parere è lei? Io ho votato no, ma siamo stati contenti perché siamo nati a Monbaroccio e siamo sempre contenti di rimanere a Monbaroccio. Anche lei è rimasto sveglio fino tardi in attesa della notizia? Io ho sentito i miei colleghi a tornare le tre mesi di notte. Quindi da lì hai immaginato? Da lì ho immaginato. Che hanno aspettato fino all'ultimo momento. Sono felice perché il Monbaroccio deve rimanere sempre Monbaroccio. I cittadini sono stati più intelligenti di tutti, dando il voto no a Monbaroccio, alle votazioni di ieri. Quindi il sindaco si deve dimettere, non ha più nessun motivo di esistere, perché i monbaroccesi non lo vogliono più.